Ragazzi siamo nella nostra nuova casa, enorme Mamma mia guarda che questa è una piccola parte del giardino che faccia il brindisi Cin cin Cos'è una piccola parte di dillo Scela la piccola parte del giardino Paggia la piccola parte del giardino L' skillsetto di metà Scalzi Iscriviti al nostro Bamarie ragazze madonna io sono stanchissima a parte il fatto che sono proprio assonnata perché stamattina ci siamo svegliati presto questa cosa della casa no vabbè sono troppo troppo emozionata in realtà io questo video vi volevo parlare cioè in realtà oggi avevo pensato di caricare questo video dopo il battesimo mi è venuta in mente questa cosa in cui volevo parlare di dei cambiamenti che volevo portare sul canale no e vi volevo mostrare Daniel volevo farvi un annuncio particolare infatti l'avevo scritto anche su Instagram però poi cosa è successo? questa cosa della casa perché oggi abbiamo avuto questo appuntamento importante per questa cosa della casa mi ha fatto deviare un po' quindi l'ho buttato più sulla casa quindi a questo punto penso settimana prossima perché come avete visto sto caricando un video a settimana di più non ce la faccio perché comunque YouTube per me lo so che sembra strano ma è principalmente una passione cioè un legame un contatto che ho con voi ma il mio lavoro è molto molto fuori YouTube quindi poi anche con Daniel non riesco a fare tanti video anche se in tante mi iscrivete anche su TikTok ultimamente una ragazza mi ha scritto ci mancano i tuoi mukbang su YouTube ragazze credetemi veramente non ho tempo però cercherò comunque di mantenere il contatto con voi una volta a settimana e appena sono ho un attimo di tempo vi prometto che vi butto un bel mukbang torniamo come prima comunque già il fatto che riesca a fare un video a settimana già sono fiera e soddisfatta di me perché veramente credetemi tra lo shop online il mio lavoro di influencer con le varie collaborazioni su Instagram eccetera per quanto riguarda i miei progetti a cui sto lavorando futuri sempre lavorativi e poi c'è il Daniel poi la nuova casa veramente veramente complicato comunque allora vi devo aggiornare della casa ragazze finalmente oggi abbiamo le chiavi chiavi in mano e veramente super emozionante questa cosa perché io cioè questo è il mio sogno più grande io fin da quando ero piccola non lo so non chiedetemi perché ho sempre avuto il desiderio di comprare casa di avere una casa mia una bella villa e vi giuro che questa è bellissima è grandissima faremo anche la piscina verrà questo mi dovete aiutare voi perché ho bisogno di un bravo architetto una brava impresa che a me piace tantissimo lo stile americano pulito quello pulito moderno però con toni chiari molto marmo molto vetro luminoso proprio bello e quindi sto cercando qualcuno che veramente sia in grado perché purtroppo qua veramente fanno solo cose brutte di cattivo gusto che a me non piacciono e niente quindi mi dovete aiutare voi a consigliarmi qualche buona impresa alcuno veramente con i cosiddetti che sappia perché poi stiamo parlando di una casa a tre piani con anche un esterno grandissimo quindi sia interno che esterno vabbè comunque ragazze sono felicissima e ovviamente grazie a voi che mi sostenete e veramente mi avete mi state permettendo di realizzare tanti sogni non è scontato io mi sono sempre impegnata tanto cioè ho sempre messo il curo ormai da dieci anni che comunque lavoro nel web sui social eccetera però grazie soprattutto a voi e io mi sento molto molto grata di avervi nella mia vita non solo per le soddisfazioni lavorative cioè non solo per le soddisfazioni come posso dire dal punto di vista economico no ma proprio per avervi nella mia vita come supporto come per qualsiasi cosa io so che qualsiasi cosa dovesse succedermi qualsiasi cosa io so che ci siete voi non so come spiegarvi è una cosa veramente veramente a cui sono grata perché poi chi ha iniziato come me tanti anni fa non è il personaggione che è uscito dal programma televisivo noi siamo proprio come una famiglia come delle amiche perché voi vi siete affezionate realmente a me a quello che sono ai contenuti che portavo non so ognuno di voi per qualcosa che magari vi ho consigliato magari che semplicemente perché vi ho fatto sorridere o semplicemente perché vi siete messi in forma con me avete risolto dei problemini estetici quindi questo mi fa niente mi rende troppo fiera e grata molto molto grata e a proposito di super consigli io vi devo far vedere delle novità stupende che abbiamo inserito su caritashop.com allora innanzitutto se non mi seguite su instagram vi siete perse la fantastica notizia siete ancora in tempo perché oggi state vedendo il video il mercoledì scade domani quindi avete le ultime 24 ore più o meno oggi praticamente adesso per approfittare del 20% su eterea che sapete che è uno dei marchi che io amo di più al mondo e che voi acquistate tantissimo su caritashop.com i prodotti però non sono mai scontati e quindi adesso dovete approfittare per fare scorta di tutto e il codice che dovete inserire eterea 20 col 20% risparmiate i prodotti sono wow pazzeschi per la skin care per il corpo anti cellulite per i capelli favolosi vi metto link l'inbox informazione e poi voglio far vedere questa super novità di apiarium che no sono troppo fiera di questa cosa un cofanetto anti cellulite favoloso dove dentro trovate due prodotti che già avevamo e due nuovi allora praticamente trovate il gel gambe effettore infrescante gambe wow quindi quello che vi elimina la ritenzione freschissimo vi lascia le gambe toniche e leggere lo scrub drenante questo qua è favoloso proprio perché vi elimina non solo la ritenzione ma anche i peli incarniti vi lascia una pelle super morbida e liscia e ci sono due prodotti nuovi allora il fango anti cellulite drenante favolosissimo io adoro il fango perché vi modella e quindi questo vi aiuta un sacco contro la cellulite e c'è anche la crema corpo rassodante favolosa perché le creme io amo quando sono rassodanti perché oltre ad avere un buon profumo devono anche rassodare questa rassodante anti cellulite perché contiene tanti estratti dentro che vi vanno a rassodare il corpo a contrastare la cellulite tutto il cofanetto è scontato in promo lancio quindi acquistatelo perché è bellissimo e costa pochissimo avete 4 prodotti in full size che vi aiutano un sacco proprio una routine anti cellulite specifica e in più vi lascio anche il mio codice sconto che vi da un 15% di sconto su tutto quello che non è già scontato sul sito ed è carlitaip se non tengo questo in questo modo se prendete cose in promo o non in promo voi comunque inserite il codice e avete comunque uno sconto del 15% e poi ci sono 2 nuovi prodotti di Nabra ragazze la vita io amo questa tipologia io amo proprio curare il corpo le gambe molto di più d'estate non su voi quindi questi qua dopo che tu ti sei fatta tutta sta routine le gambe belle senza ritenzione toniche snelle ti metti un po' di questo che è favoloso ragazze la bella vita è tipo un olio spray però fluido gel quindi non vi lascia niente ed è favoloso perché elimina anche le discomie tipo le macchie le perfezioni cicatrice smagliature se avete dei segnetti dei puntini sulle gambe è bellissimo gambe braccia coltè dappertutto ragazzi questo guardate quanto è bello non so se riuscire a vedere ma l'effetto è bellissimo c'è nella colorazione più chiara o più scura adesso vi faccio vedere anche l'altra questa è la più chiara ed è praticamente si chiama sugar babe e questa si chiama max relax ve lo faccio vedere anche così vedete questa è più scura quindi io li ho presi entrambi per me vi dico la verità perché in questo modo li posso miscelare quindi li utilizzo insieme e viene proprio la colorazione perfetta e questo qua comunque è perfetto quando vi abbronzate un pochino in più mentre se non siete abbronzate vi consiglio l'altro oppure tutti e due così li miscelate ed è proprio wow fantastico l'effetto adoro io so tutto sulle gambe mi piace un sacco anche perché io so sempre con le gambe da fuori ma anche in spiaggia oltre che per le serate comunque wow questi qua su questi su caritashop.com avete il 15% di sconto col codice appunto carità15 dopo ve li faccio dire anche da vicino un'altra cosa che voglio consigliare che sto usando tantissimo tutte le novità nabla illuminanti terre la matita nera vi metto il link nelle box informazioni e anche la palettina nuova Miami io questa lastra amo è bellissima perché ho con le dita l'ho stato anche stamattina mi do uno di questi qua e poi si toglie non so come sia possibile non si sbava non si avrebbe il pennello vi viene un bellissimo effetto come se avessi fatto un trucco di un'ora e non rimangono le dita sport cioè sono la vita questa palettina io ve la sto consiglio soprattutto con l'abbronzatura è bellissima e qualsiasi colore mettete potete fare anche delle combinazioni se vi sentite più favolose anche su questa avete il 15% con codice callita Y e niente ragazzi io sono momento della mia vita felice anche se aggiornamento vacanze perché è una cosa che mi chiedete io quest'anno non farò tantissimo vacanze non mi abbandonerò tanto soprattutto su Instagram su Youtube vi ho detto tantissimi contenuti non riesco però voi seguitemi su Instagram anche su TikTok ultimamente sono attiva ma su Instagram ogni giorno c'è story foto sempre quindi là mi dovete per forza seguire so che tanti non usavano Instagram e l'hanno creato apposta per me veramente onore e piacere io sono tantissimo attiva e non vi lascerò non vi abbandonerò perché farò pochissimo vacanza cioè nel senso che comunque io mi godo sempre tutto però cioè non partirò tantissimo adesso ecco che mi messaggiano dagli uffici carità shop perché per sempre per alcuni motivi primo motivo perché io se vado in vacanza adesso condanne senza ad esempio l'aiuto di mia mamma di altre persone per me non è una vacanza mi riesco a stare qua mamma mia aiuta ho le mie comodità veramente perché è una fase veramente stressante perché Dani non vuole iniziare a camminare quindi qua lui ha il suo recinto io mi sento sicura poi c'è un mamma che abita vicino mi viene a dare una mano tante questa è la cosa principale poi perché dobbiamo stare dietro alla nuova casa fino a ieri alle firme poi c'è lato le chiave adesso dobbiamo iniziare con l'architetto quindi dobbiamo restare qui il più possibile e anche perché io mi sto allenando e sto iniziando a vedere veramente il mio corpo tornare come prima ragazze e quindi non voglio mollare gli allenamenti con il mio personal perché sto amando poi ve ne parlerò se volete io ve ne parlerò vi farò casomai un video nuovo aggiornamento sulla mia dieta e il mio allenamento e niente ragazzi ho una Carlita felice e grata per avervi nella mia vita e vi mando un bacio e se vi faccio vedere qualche altra cosina questo è un vlog a giornale non si sa che cos'è ma ormai basta restare in contatto quindi mi raccomando seguitemi sempre su Instagram e vi aspetto sono su carica shoppo.com o ma? Ciao Ragazzi siamo nella nostra nuova casa E' enorme Mamma mia guarda che questa è una piccola parte del giardino C'è un brinde andiamo andiamo corri corri andiamo andiamo Bubi vieni Bubi vieni 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 Grazie a tutti.